Due valanghe cadute stamattina dalla Cima Iazzi sul Monte Rosa, ma si è trattato di un distacco programmato. L'elicottero ha trasportato i tecnici ai 3.800 metri della vetta, dove con cariche di dinamite queste hanno provocato la caduta della neve. Una eventuale slavina dalla Cima Iazzi rappresenta un pericolo per le piste del Belvedere, da qui la bonifica preventiva per permettere poi di riaprire e sciare in sicurezza, spiega Matteo Besozzi, presidente della cooperativa Macugnaga Trasporti e Servizi. In quell'area sono già piazzati dispositivi Gazex per il distacco automatico, ma in caso di forti nevicate occorre intervenire anche sulla cornice che si forma proprio sulla cima con l'esplosivo. Altre distacchi programmati sono stati provocati nelle scorse ore proprio attraverso Gazex. Riapre così in sicurezza domani il comprensorio Burki Belvedere con un innevamento ottimale. In alto sono caduti tre metri di neve. Gli addetti hanno lavorato ininterrottamente giorno e notte per approntare le piste. Chiuso invece il moro. Si stanno preparando le piste, ma gli impianti sono senza corrente da lunedì, nonostante l'incessante impegno di Enel per ripristinarla. Molti blackout, i primi interventi, sono stati naturalmente sull'abitato. Ora i tecnici sono al lavoro per le piste. Il peso della neve ha provocato la caduta di diversi fili della corrente, peraltro in zone non facilmente raggiungibili. Da questa mattina, presente a Macugnaga la protezione civile del VCO, che sta operando con l'utilizzo di un bobcat dotato di fresa da neve per liberare le strade interne del paese, dove i mezzi grossi non riescono a operare. Altri aggiornamenti sulle criticità ancora aperte a causa della neve. Tornata transitabile la strada comunale per l'Alpedevero. C'è l'intenzione di aprire domani la strada per Riale, ma oggi le roccette hanno scaricato a tratti. Occorrerà vedere l'evoluzione della situazione nelle prossime ore. Aggiornamenti sul sito del comune di Formazza. In caso di transitabilità è pronta ad accogliere gli sciatori la pista di fondo di Riale, aperti a valle dell'attuale sbarramento l'anello di San Michele e per la discesa Valdo e Sagersboden. Riaperta anche la strada a perchéggio in Vale Antrona, gli impianti torneranno in funzione domenica. Innevamento ottimo su tutte le piste del comprensorio di Neve Azzurra, aperti ski lift, seggiovie e cabinovie di San Domenico di Varzo, Domo Bianca, Mottarone, la Baitina di Druogno e la Piana in Valle Vigezzo, Devero, Pian di Sole. Per il fondo scia ai piedi a Santa Maria Maggiore, al Devero, alla Signal di Macugnaga. Per gli aggiornamenti www.neveazzurra.org